non c'è nessuno 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 Grazie. 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 Ne érde fel a nagyba? Hát... gondolom. De én leget� mindig. no it is van egy kisebb 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 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 16 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 16 16 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.